ciao a tutti bentornati al mio canale oggi facciamo una bellissima gara ci abbiamo tre squadre una i trattori la seconda i monster truck e la terza la squadra di topolino la prima gara il trattore e il monster truck pronti ai posti via hanno fatto incidente un trattore arancione e il monster truck viola ha vinto il trattore il monster truck si è capovolto ha vinto il monster truck adesso la gara la fa il trattore verde e topolino hanno fatto incidente ma il primo è topolino facciamo un altro volto la gara vediamo chi vince veramente ecco topolino si è capovolto però ha vinto il topolino facciamo un'altra gara il trattore arancione e il monster truck giallo la gara la vinta il trattore il monster truck si è capovolto anche questi hanno fatto l'incidenza anche loro guardati dove si sono fermati gli facciamo fare una rivolta ha vinta il trattore ragazzi mi dispiace ma la gara l'ha vinta il trattore bravi essermi i miei trattori ciao 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 ciao